Musica State comodi, godetevi questo spettacolo eccezionale Hanno un'altra occasione L'ha messo giù, fallo piuttosto cattivo Incredibili amici Il cambio di lato sull'altra fascia Brutto fallo, sarà calcio di punizione Cristiano Ronaldo Cerca il numero Che era rischiato in questo intervento Continua la pressione, sarà calcio ad angolo ancora Non è perfetto per un colpo di testa Pericolo Ci sarà un altro corner Viaggia verso la linea di porta Altro tentativo Palla molto interessante Buona deviazione del portiere C'è l'occasione per la ripartenza Deve tirare Respinta sicura del portiere Cercano l'azione veloce Cercano l'azione veloce Che botta Pazzesco Deciso non cattivo Pessimo intervento difensivo Pallone perso Ecco il tiro 1-0 1-0 è arrivato Brutto intervento Brutto tackle Potrebbe provare direttamente in porta Cerca lo specchio della porta Buona conclusione Esce davvero di poco Esce davvero di poco Ammetri Che colpo E' arrivato E' arrivato Vuoto con dentro Ci ha provato 3-0 E' partita che sembra Ci prova Portiere qui Non rischia la presa Inizia il secondo tempo Vedremo se ci saranno Variazioni tattiche Fra le due squadre E' in zona pericolo Allontana con i pugni Sul fondo 4-0 E' un fallo Di pura foca agonistica Sarà calcio di punizione Hanno un'altra possibilità qui Entrato completamente fuori tempo Sarà calcio di punizione Ci sono abbastanza vicini Per cercare la porta La mette bassa Un altro gol Sta diventando Veramente pesante La situazione per gli avversari Risultato imbarazzante Per gli avversari Però 5-0 Una partita Senso unico Tutti i semafori Erano verdi E i tiri Passavano Senza difficoltà Respinta sicura Del portiere Che concede Comunque un calcio ad angolo Alza bene 2-0 Nessun problema E dà di capire Se la decisione Dell'allenatore Potrà condizionare La partita Finalmente Fanno un po' Di possesso di palla Però Devono trovare A spingersi davanti C'è un'altra occasione Che gol bellissimo Hanno un'altra occasione Che botta al vola Ballone in rete Possono ridere La lettore Possono ridere Tipo La botta Pesantissima La situazione Un altro gol concesso Ancora una volta Troppa distrazione Di Scarica il tiro Un altro gol Sta diventando Veramente pesante La situazione Qui sta molto bene Qui sta molto bene il processo di palla La mette al centro Approvato Un'altra possibilità qui È un tackle terribile Merita la punizione Qui c'è già chiaramente la possibilità di trovare direttamente la porta Trova direttamente la penaltia Trova direttamente appena alta Ecco il tiro Pallone fuori Grande opportunità Grande opportunità Palla che sbatte sul palo Un po' trasformato Entrata completamente scoordinata Cerca la porta Fuori davvero di niente Palla gol Prova il tiro Altra occasione Pallone in rete Posso Opportunità sulla corsia Palla perfetta in mezzo Sul problema per il portiere Su questo tiro Ha raccolto i bel cross dal compagno Ma non è riuscito a indirizzare i paloni in rete I compagni si sono strappati Così tanto i capelli che ora sono tutti pelati 80 secondi per le speranze delle due squadre L'ha messo giù Purizione Questa è un'occasione fondamentale Per chiudere forse la partita C'è il tocco rasoterra Pallone in rete Sono spietati davanti Straordinaria russurità Questa è una squadra cinica Capace di truppare tutte le occasioni Gol come questo Non hanno bisogno di tanti commenti È eccezionale Amici Che tiro fantastico Vorrei rivederlo tantissimo José si è divorato il tuo manuale del calcio Messi Taglia tutta la difesa Arriva l'attaccante per primo Che ingenuità Hanno successo un altro gol Ancora una volta Arriva il fischio finale Il campo ha parlato È la terza vittoria consecutiva È davvero un grande momento di condizione Per questa squadra C'era lo speranza di una sorpresa Che t'è l'attaccia di là Che t'està meglio